buongiorno a tutti sono mitico 46 o oppure michele 3146 e benvenuto non alive con game of advanced sp wars armageddon originale della team17 mettiamo dentro il gioco il computerino naturalmente originale sto provando le nuove soluzioni che ho comprato sui bai e 22 euro era da pollici allora trovate su 22 euro ok siamo sparte cittadina più opzioni un finito un finito una parte ok bello su muro un po' di pazucca con start si usa tutto l'armadietto combi si fa il chioppo 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 questo che è un bagno bello molto molto bello qualche volta non si vede lo schermo perché non e che non posiziono bene le mani ed è la prima volta che uso un salmone o altri giochi un salmone 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 questo geggino Game Boy Advance SP è stato quasi regalato a 20 euro e mi ricordo quanto è costato dal mister Alessandro Neck di di Yesy Game Evolution e mi è stato regalato più o meno era nuovo no sì ma che la carta un cartone l'imballaggio ma quando l'ho visto l'ho preso subito subito poi a 20 euro gratis e dopo ho trovato questi giochetti piccoli piccoli oi e il giorno dopo c'è Cacchio, l'ho chiapato. Qualcuno ha chiapato. Ho chiapato qualcuno. E mi te? Cacchio. E' questo muro che c'è, che la mostra è così, se no ce ne sono molti altri sicuramente. Cacchio. Cacchio. E' questo. Cacchio. Cacchio. Il duro o il mayor? ... ... ... ... ... state le nuove faccio con le mani cerco di mantenere lo schermo migliore la vista migliore un pezzettino di terra, cientaccio, non me sto accorto la vista migliore 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 la Michele 3100 la vista migliore 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 la vista migliore